Nino Taranto è stato un attore e comico italiano che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo italiano della metà del ventesimo secolo. La sua vita è stata una testimonianza del suo immenso talento e delle lotte personali che ha dovuto affrontare, che alla fine hanno portato a un finale toccante e tragico. Nino Taranto è nato il 28 agosto 1907 a Napoli, in Italia. Il suo viaggio nel mondo dello spettacolo è iniziato in giovane età quando ha scoperto la passione per la recitazione e la commedia. Il tempismo comico naturale e il volto espressivo di Taranto lo hanno reso un interprete eccezionale fin dall'inizio. Ha fatto il suo debutto nel mondo teatrale da adolescente e ha rapidamente ottenuto riconoscimenti per il suo talento comico. La sua capacità di entrare in contatto con il pubblico attraverso l'umorismo ha aperto la strada al suo futuro successo nel settore dell'intrattenimento. La carriera di Taranto guadagnò slancio durante gli anni 30 e 40, quando passò dal teatro al mezzo emergente del cinema. Il suo stile comico unico, caratterizzato dal suo volto espressivo e dall'umorismo napoletano, ha risuonato con il pubblico di tutta Italia. Divenne noto per i suoi personaggi indimenticabili e i suoi slogan che lasciarono il pubblico a bocca aperta. Uno dei ruoli più iconici di Taranto è stato nel film Napoli Milionaria, diretto da Edoardo De Filippo nel 1950. La sua interpretazione in questo film ha consolidato il suo status di figura amata e influente nel cinema italiano. Dietro le quinte, Nino Taranto ha dovuto affrontare lotte personali che hanno pesato molto su di lui per tutta la vita. La sua battaglia contro la depressione e l'ansia è stata esacerbata dalla natura esigente dell'industria dell'intrattenimento. Nonostante il suo carattere esteriormente allegro e comico, era alle prese con demoni interiori che spesso passavano inosservati al pubblico. Nino Taranto, l'amato attore e comico italiano, incontrò una tragica fine il 23 febbraio 1986, quando si tolse la vita all'età di 78 anni. Questo evento straziante segnò il culmine di una vita piena di immenso talento, fama e lotte personali. Negli anni precedenti la sua tragica scomparsa, Nino Taranto ha dovuto affrontare una serie di sfide personali che hanno pesato molto sulla sua salute mentale e sul suo benessere. La sua vita è stata segnata da una complessa interazione tra il successo nel settore dell'intrattenimento e le battaglie interne che ha combattuto in privato. L'ascesa alla fama di Taranto nel cinema e nel teatro italiano durante la metà del ventesimo secolo è avvenuta con una serie di pressioni. Essendo una figura di spicco nel mondo dello spettacolo, era costantemente sotto gli occhi del pubblico e le aspettative riposte su di lui erano considerevoli. Il pubblico di tutta Italia lo adorava per la sua genialità comica e la sua versatilità come attore, ma le esigenze della sua professione mettevano a dura prova il suo stato mentale ed emotivo. Dietro le quinte, Nino Taranto era alle prese con la depressione, una condizione che non era ampiamente compresa o apertamente discussa durante la sua epoca. Le sue battaglie con questo demone interiore furono in gran parte nascoste agli occhi del pubblico, poiché manteneva una facciata allegra e divertente nella sua vita professionale. La depressione è una condizione di salute mentale complessa e spesso insidiosa che può colpire chiunque, indipendentemente dal successo esteriore o dall'immagine pubblica. La lotta di Taranto contro la depressione serve a ricordare duramente che i problemi di salute mentale possono affliggere anche coloro che portano risate e gioia agli altri. Oltre alle sue battaglie per la salute mentale, Taranto dovette affrontare difficoltà finanziarie negli ultimi anni della sua vita. Questi problemi finanziari hanno aggiunto un ulteriore livello di stress al suo già fragile stato emotivo. La combinazione di fama, preoccupazioni finanziarie e depressione creò una tempesta perfetta di tumulto emotivo. In quel fatidico giorno del 1986, Nino Taranto cedette ai suoi demoni interiori e si tolse la vita. La notizia della sua scomparsa ha scosso l'Italia e l'industria dello spettacolo. La sua morte ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi fan e colleghi, che lo adoravano per il suo genio comico e la sua capacità di far ridere nelle loro vite. Le circostanze del suicidio di Taranto furono profondamente tristi. È servito come un toccante promemoria delle lotte nascoste che molti artisti affrontano dietro il sipario della fama. Nonostante il suo immenso talento e successo, non riusciva a trovare conforto dal tumulto interiore che lo perseguitava. L'eredità di Nino Taranto sopravvive attraverso il suo contributo al cinema italiano e il suo impatto duraturo sul mondo della commedia. I suoi personaggi memorabili e la brillantezza comica continuano a portare gioia al pubblico di tutto il mondo. Tuttavia, il suo tragico finale serve a ricordare in modo toccante l'importanza della consapevolezza della salute mentale e la necessità di sostegno e comprensione nel settore dell'intrattenimento e non solo. La vita e la morte di Taranto fanno luce sulle sfide che le persone sotto i riflettori possono affrontare, sottolineando l'importanza della compassione e dell'empatia per coloro che portano risate e gioia nelle nostre vite. La sua memoria sopravvive come testimonianza della complessità dell'esperienza umana, anche nel mondo della commedia.